Nicola Moltini, che cosa ha chiesto al Ministro in merito alla questione dei frontalieri? La Lega ha posto per l'ennesima volta al Governo centrale di Roma la richiesta di tutelare e di difendere i nostri lavoratori frontalieri. 60.000 lavoratori del nord, delle province di Como, Varese, Sondrio, Verbano, Cusossola, che rappresentano una grande ricchezza, una grande risorsa per i nostri territori, ma anche per il territorio svizzero. I frontalieri sono diventati di attualità oggi, all'esito del referendum svizzero, che è stata una grande dimostrazione di democrazia e di civiltà da parte del popolo svizzero, che ha voluto difendere il proprio futuro e guardare al futuro del proprio territorio, difendendo i propri lavoratori e i propri cittadini, quindi un modello da esportare anche nel nostro territorio. Diventano di attualità i frontalieri, ma la Lega dei frontalieri si è sempre occupata e ha sempre difeso le loro istanze. Al governo abbiamo chiesto di tutelare i lavoratori frontalieri, di tutelare la politica dei ristorni, che sono i soldi pagati dai lavoratori frontalieri che vengono retrocessi ai comuni del nord per poter garantire i servizi al territorio, e abbiamo chiesto soprattutto che nelle trattative con Berna sulla rinegoziazione degli accordi Italia-Svizzera possa partecipare anche Regione Lombardia, e quindi un tavolo allargato anche ai territori del nord. Il ministro cosa ha risposto? La risposta del ministro è stata scandalosa, è stata vergognosa, è l'ennesima dimostrazione che il vero nemico dei lavoratori frontalieri non è il referendum svizzero, non è la democrazia svizzera, ma il vero nemico, il nemico cronico, storico dei lavoratori frontalieri è Roma, è il governo centrale, che si è sempre disinteressato di questa categoria di lavoratori, li ha sempre trattati come dei lavoratori di serie B, di serie C, come degli evasori fiscali, come dei privilegiati, e tutto un tratto si accorgono che esistono i lavoratori. Noi abbiamo chiesto al ministro Giovannini di occuparsi, di garantire le tutele necessarie e doverose, ad esempio sul fondo di disoccupazione. Ricordiamo che ci sono 280 milioni di euro, che sono una parte dei contributi che i lavoratori frontalieri hanno pagato, che vengono utilizzati per pagare la disoccupazione, quindi gli ammortizzatori sociali ai frontalieri, che Roma vuole scippare, vuole rubare una vera e propria rapina di Stato romano ai danni dei lavoratori frontalieri. Abbiamo chiesto che questi soldi rimangano a disposizione dei lavoratori frontalieri. Se Roma adempierà a questi impegni, bene, coinvolgendo anche Regione Lombardia. Altrimenti se Roma si disinteresserà, come sempre, il famoso e solito menfreghismo romano, che Roma si levi dalle scatole, che ai frontalieri ci pensa il territorio, ci pensa in modo particolare Regione Lombardia.